L'Italia ha un ruolo molto significativo. Sappiamo che anche dal punto di vista storico la Libia è sempre stata una regione molto importante per l'Italia, soprattutto sul piano economico. Lì lavorano i colleghi dell'Eni. Nel settore del gas sono rappresentate molte società. Tra le ambasciate che funzionano meglio, senza dubbio, c'è quella italiana a Tripoli. Ho avuto frequenti contatti con l'ambasciatore in Libia e devo dire che c'è un atteggiamento molto positivo. Sanno muoversi, sono d'aiuto. Dal mio personale punto di vista devo dire che approvo come gli italiani conducono la loro politica in Libia.